Penso che siamo già in ritardo per arrivare almeno il 55% per il 2030, su cui tutti siamo andati d'accordo, tutto il paese in Europa, anche l'Italia, onestamente siamo in ritardo, non abbiamo più tempo per una pausa, se dobbiamo ristrutturare le case, i più di 20 milioni di case in Italia, non c'è tempo da perdere. Ci sono due grandi problemi, prima specificamente per l'Italia, che per l'80% dei condizionatori non si potrebbe più rinnovare, perché non si può più installare sul balcone, ma ancora più grande che questa legge farebbe il contrario di quello che dice di fare, vuol dire invece di combattere l'iscaldamento della terra, l'effetto reale sarebbe un ritardo del technology shift verso le pompe di calore, così vuol dire un ritario nel risparmio del CO2 in Europa e in Italia. Chiaramente quello che abbiamo visto in diversi paesi in Europa, anche in Italia, che hanno dato l'incentivo dei sistemi di compensare l'aumento del gas, è andato contrario alla direzione di decarbonizzazione, perché stimolare l'uso del gas e penalizzare l'uso dell'elettricità, non nella direzione in cui vogliamo spostare il riscaldamento delle case.